Un settore come tanti che rischia realmente di scomparire due passeggeri a corsa come limite massimo di capienza e con i dispositivi di sicurezza oppure senza questi ultimi, ma con un solo passeggero ed il divieto di sedersi accanto al conducente diventano condizioni inaccettabili. Succederebbe semplicemente che gli NCC non saranno in grado di lavorare, quindi si prolunga ancora di più, e parliamo di mesi non di giorni, l'agonia di questo settore. Il presidente di Azione NCC, Giorgio Dell'Artino, tuona ai microfoni del TGT contro la bozza del Ministero dei Trasporti a causa dei vincoli applicati al settore mobilità in vista dell'ingresso della fase 2, un urlo disperato di un settore completamente fermo che vede ad oggi le prime prenotazioni a marzo 2021. Si stanno registrando in questo periodo le cancellazioni per il mese di ottobre e per noi che lavoriamo principalmente di turismo significa stare fermi da novembre a marzo per la bassa stagione e ricominciare la seconda metà di marzo. Nei prossimi giorni ci saranno comunque nuovi contatti col Ministero per chiedere una revisione delle regole, se però l'appello cadesse in ascoltato. È impossibile accettare il silenzio che ci è stato riservato fino ad oggi, è assolutamente inaccettabile. Vorrei brevemente dire che il 70% dei noleggiatori non ha ricevuto nemmeno i 600 euro, ancora non sono arrivati, per quella miseria che è. Scendere in piazza potrebbe essere ipotizzabile? Assolutamente sì, appena sarà possibile muoversi sicuramente organizzeremo flash mob e manifestazioni in piazza a difesa della categoria.